Buono. Buono. Chiara mai mangiasti così? Mi sto adorando la signore Deo. Il nutrimento sempre è dono della signore Deo. Come dice Francesco? A Francesco nostro piace di mangiare. Che si mangia Francesco all'Oriente? Nell'Oriente si mangia la semola con il latte di mandola e lo cinnamomo. E non si può mangiare lo porco, che porta scomunicazione. Come si mangia senza lo porco? In Marocchi che si mangiano? Si mangiano lo pane come a noi. Ma è come una spugna molligosa. Ci pongono entro le carni, le erbe, l'oio. Lo pane come la spugna, madre santissima. Che ho fatto? Hai confianto la pancia? No. 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 No.